15 secondi dal centro per la formazione e la sicurezza di Sedico. La volontà della scuola è quella di diventare una scelta consapevole affinché possano raggiungere una qualifica professionale completa a livello edile, ma anche termoidraulico, nel settore del legno ed elettrico. Vieni a trovarci a Sedico in via Stadio.